Un tracciato sul quale sono passate alcune delle stelle del ciclismo nazionale. Domenica staremo a vedere chi brillerà sui 77 chilometri, disegnati fra le strade di Sondrio e dintorni. Forte di oltre 34 edizioni alle spalle, il Gran Premio Inter Caleb Ponchiera, manifestazione di cui TSN e Media Partner, anche quest'anno richiamerà in astra di partenza le migliori promesse del pedale su strada tra i 15 e i 16 anni d'età. Tra questi il grosino Massimiliano Pini della ciclistica trevigliese. La competizione è valida anche per l'assegnazione della maglia di campione provinciale di categoria 2018. Si contraddistingue per l'assalto finale su Ponchiere e Arquino, ascesa che ogni anno mette a dura prova anche gli scalatori più esperti, prima della picchiata finale verso il capoluogo. Da oltre 30 anni ha sempre richiamato qui a Sondrio dei corridori che in parte sono diventati anche famosi, anche professionisti. E quindi è una gara sentita, è una gara molto impegnativa per quanto riguarda il percorso. Abbiamo naturalmente nella parte finale l'ascesa di Ponchiera dove si decide da qualche anno la manifestazione, la corsa e il risultato finale. L'evento, prima tappa della settantesima edizione del Giro delle Provincie di Como, Lecco, Sondrio e Varese, secondo il rappresentante della Federazione Ciclistica Italiana, è la vetrina ideale per richiamare sempre più giovani verso il mondo delle due ruote. In Valtellina sono all'incirca 300 ragazzi amanti della bicicletta, soprattutto mountain bike. Noi speriamo che questo tipo di manifestazione possa richiamare soprattutto il mondo giovanile allo sport delle due ruote. Per cui non possiamo fare altro di dire che siamo soddisfatti e di augurarci per il futuro sempre maggiori successi.